38 indagati, 16 in carcere, 22 agli arresti domiciliari. Questo è il bilancio dell'operazione portata a termine dalla Compagnia Carabinieri di Salerno. Le persone coinvolte sono gravemente indiziate a vario titolo di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti, detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, detenzione e porto abusivo di arma da guerra, lesioni, danneggiamento seguito da incendio ed essorzioni. Il colonnello Gianluca Trombetti è intervenuto sull'operazione. Il nome prende spunto dal vertice dell'organizzazione criminale che è Ciro Persico. Ciro Persico che in più di una circostanza è stato indicato dai suoi gregari come il capo indiscusso e che affermasse questa sua qualità non tanto e non solo per l'affermazione economica quanto per il prestigio e l'ascendente che lui voleva necessariamente mantare nei confronti dei suoi affiliati. E questo lo rileviamo in una circostanza particolare che è quella della consegna a mo' di dono, a mo' di iniziazione di alcuni suoi gregari per l'ingresso nel suo clan di un fucile a Cannemozza, Cannemozza che però non riesce ad arrivare a destinazione perché è sequestrato dai carabinieri lungo il percorso. Si diffondeva tantissimo nel centro storico, chiaramente dove c'era un via vai di acquirenti e anche negli altri quartieri che abbiamo indicato, in particolare il quartiere di Mariconda, il villaggio dei Puffi e anche in altre zone che andavano anche al di fuori della città di Salerno. Come accennavo prima, speriamo di aver contribuito quantomeno al miglioramento di una forma di degrado che affliggeva il centro storico di Salerno e che è stato spesse volte posto all'attenzione sia delle autorità locali che della carta stampata e dei mass media. La disponibilità di sostanze sufficienti era particolarmente ingente. Considerate che tutto ciò che non è stato sequestrato è stato poi smaltito, è stato venduto, è stato ceduto ed è stato spacciato. Quindi parliamo di grossissimi quantitativi di sostanze nella disponibilità del clan e abbiamo ipotizzato, abbiamo stimato un fatturato medio giornaliero di circa 4.000 euro. Il suo spessore criminale è evidente ed è un fattore di fortissima aggregazione rispetto a tantissimi altri affiliati che hanno visto in lui un elemento per vantare anche un blasone dell'organizzazione criminosa. Né riscontro il fatto che stesso lui con alcuni suoi fidati e gregari a contrattare ed avere l'assenso con alcuni esponenti del clan Defeo e di Bellizzi alla espansione del mercato dello spaccio ad Acerno e a Montecorvino Rovella. Quindi ha una forte personalità e che non ha reso facile l'attività di indagine che abbiamo condotto. L'attività di indagine si ferma a prima dell'emergenza Covid. È chiaro che abbiamo monitorato anche in questo periodo di fermo, soprattutto per comprendere quali fossero le eventuali dinamiche criminali assunte nel frattempo. Il mercato della droga è un mercato che è veramente pervasivo di tutta quanta la società e pervasivo anche della città di Salerno e di tutta la provincia. Grazie a tutti.